Il tempo stringe! Ad ottobre Microsoft interromperà il supporto per Windows 10. In un video precedente ti ho mostrato una serie di stratagemmi ed escamotage per continuare a sopravvivere con la tua macchina Windows 10 anche dopo la scadenza, ma naturalmente ribadisco che la scelta migliore laddove sia possibile è quella di passare a Windows 11. Facile dirlo, dirai tu, e se la mia macchina non è supportata? Beh, abbiamo mostrato una serie di stratagemmi in passato che ci consentono di installare Windows 11 anche sulle macchine non supportate, ma purtroppo diversi computer, nonostante tutti i tentativi, sono rimasti indietro e allora ci ha pensato qualcun altro a risolvere il problema per noi. Ebbene sì, proprio 5 giorni fa è uscita la nuova versione di Flyby 11 che promette miracoli e li fa anche, non ci credi? E io te lo faccio vedere. Ti senti pronto? Iniziamo! Disclaimer, i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti va? Ricordati che lo hai voluto tu, per l'occasione ho rispolverato il nostro caro vecchio accesso a pedali, nome affettuoso che sul canale abbiamo attribuito a questa macchina date le sue infime caratteristiche che a stento fanno funzionare Windows 10 ma che non sono in grado di far funzionare ed installare Windows 11 neanche se preghiamo in aramaico e contemporaneamente sbattiamo, ma forte forte, la testa contro il muro. E allora ho pensato di utilizzarla per l'esperimento di oggi che non so ancora se andrà bene o se andrà male. Ma ti faccio una premessa. Se su questa macchina dovessimo riuscire effettivamente ad installare Windows 11 allora significa che se non ci riesci sulla tua sei autorizzatissimo a passare a Linux oppure a buttarla direttamente e a comprarti un computer nuovo. Procediamo. E come prima cosa ci andremo a procurare gli strumenti del mestiere. Ti premetto che per l'installazione di questa ISO non ci serve assolutamente nessun pendrive ma ci servirà semplicemente una ISO originale di Windows 11 e uno strumento che si chiama Flyby 11. Allora apriamo il nostro Google Chrome e nel motore di ricerca andiamo a digitare gentiluomo digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Apriamo il nostro sito e portiamoci qui in alto nella sezione downloads. Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui quello che si chiama Flyby 11. Potremo scaricarlo tramite il pulsantone azzurro ma se non riuscissi a trovarlo non dare di matto e catafiondati immediatamente sulla lente di ricerca in alto a destra facci clic e scrivi anche solo una parte del nome del file che stai cercando visto che questa procedura vale per qualsiasi file tu mi da presentare in qualsiasi video quindi io vado a scrivere semplicemente Flyby. Effettuiamo la nostra ricerca e vedrai che ti comparirà il nome del file che stai cercando facciamo un clic su per andare a scaricarlo ed eccolo qui lo avremo scaricato e potremo aprirlo nella nostra cartella downloads ma questa volta ci servirà anche un secondo file quindi andiamo qui in alto nella barra di ricerca di Google e andiamo a digitare questa volta Windows 11 ISO. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo questa volta invece riferimento al sito ufficiale Microsoft sulla voce che si chiama Scarica Windows 11. Facciamo clic, apriamo il sito e scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Scarica l'immagine disco di Windows 11 ISO per dispositivi bla bla bla. In questa finestra a tendina andiamo a scegliere Windows 11 ISO multi edizione, clicchiamo sul pulsante Scarica ora, ci penserà per alcuni secondi dopodiché ci chiederà di selezionare la lingua del prodotto. Io vado a mettere italiano e confermo con l'apposito pulsante. A questo punto attendiamo ancora qualche secondo e vedremo comparire questo pulsantone qua, 64 bit download. Facciamo un click e vedrai che partirà il download del file della ISO di Windows 11 che durerà qualche minuto. Io vado a sgranocchiarmi qualcosa. Ok, il nostro download è terminato e io mi sono mangiato un'arancia, ma siccome le arance sono finite ti faccio vedere un mandarino, così a caso. A questo punto potremo portarci qui in alto, fare clic sulla voce Downloads e cliccare su questo pulsantino qui per andare ad aprire la cartella in cui abbiamo scaricato i nostri file. Potremo quindi chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più, ma prima di passare all'installazione andiamo a fare un piccolo test. Come vedi qui ho scaricato il controllo integrità PC. Ti premetto che questa è una cosa che non è necessario che faccia anche tu e vado a cliccare sul pulsante controlla ora per vedere se questo computer è compatibile o meno con l'installazione di Windows 11. Facciamo un bel click e vedi che si accende tutto come un albero di Natale. Infatti ci dice che per una pluralità di motivi il nostro computer non è compatibile con l'installazione di Windows 11 e che quindi sostanzialmente possiamo attaccarci al tram, ma noi non ci arrendiamo e andiamo a vedere se riusciamo a sconfiggere anche questo mulino a vento. Prima di continuare tuttavia alcune importantissime precisazioni. La prima è un consiglio. Ti suggerisco di avere installato tutti gli ultimi aggiornamenti di Windows 10 prima di effettuare la transizione a Windows 11. Secondo un'informazione non avrai bisogno di alcuna chiavetta e inoltre questo tipo di aggiornamento manterrà tutti quanti i tuoi programmi e i tuoi dati personali. Come vedi sul mio computer ho aggiunto Google Chrome, VLC Media Player e una cartella farlocca di dati personali per accertarmi che questi vengano mantenuti. Terzo suggerimento assolutamente disconnetti internet per velocizzare le operazioni ed evitare di incappare in problemi come la creazione dell'account Microsoft. Potrai disattivare internet in mille modi tipo staccando il cavo oppure spegnendo il wifi o addirittura spegnendo il router. L'importante è che tu non tagli il cavo perché questo è male, anzi malissimo. Continuiamo quindi con la nostra installazione e la prima cosa che faremo sarà andare ad estrarre il nostro flyby 11. Lo facciamo con un clic destro e scegliendo la voce estrai tutto. Clicchiamo sul pulsante estrai e vedi che ti si aprirà la cartellina di flyby 11. Al suo interno faremo un doppio clic sul file eseguibile, quello che si chiama proprio flyby 11 seguito da un clic sulla voce esegui. Ci si aprirà questa finestrella che sposteremo leggerissimamente di lato. Potremo chiudere la cartella che contiene flyby 11 dato che l'abbiamo già lanciato e invece sposteremo un pochino più a destra la cartella download all'interno della quale andremo a prendere questa ISO, quella di Windows 11 24 H2 che abbiamo appena scaricato e la trascineremo all'interno di questo rettangolone grigio. La lasciamo e parte tutto quanto da solo. Come vedi viene effettuato il montaggio dei file, dopodiché ci viene chiesto di autorizzare l'esecuzione di PowerShell e partirà l'installazione di Windows. Attenzione, vedrai che ti dirà che sta installando Windows Server e questo lo sappiamo già, viene fatto perché l'installazione di Windows Server serve a bypassare determinati requisiti. gli altri vengono bypassati direttamente da flyby 11 e comunque la versione di Windows che otterrai al termine dell'installazione è esattamente quella che avevi prima, quindi non farci caso. Fai clic sul pulsante avanti ed ora aspetta il termine di tutta questa serie di operazioni. Lui dice che sta ottenendo gli aggiornamenti, in realtà noi ci siamo anche disconnessi da internet, quindi sa solo lui che cosa sta facendo. Appena ti comparirà questa finestra, clicca su accetta e scegli di conservare i file, le impostazioni e le app. Attenzione, questa scelta ti sarà consentita solamente se sul tuo computer sarà installato un Windows 10 completamente italianizzato, altrimenti questa opzione non sarà visibile. Clicchiamo su avanti e vedrai che partirà l'operazione di installazione. Quando ti comparirà questa schermata, clicca su installa e attendi alcuni minuti. Io, nel frattempo, vado a finire anche quell'ultimo mandarino. Ebbene sì, ce l'abbiamo fatta. Il nostro Windows si è aggiornato anche sul cesso a pedali. Andiamo a fare un piccolo controllino, scriviamo winver e vediamo che siamo passati alla versione 24 h2 di Windows 11 praticamente senza colpo ferire, perché come vedi tutti quanti i nostri programmi sono stati mantenuti e anche la nostra cartella dei dati personali è perfetta. E come se non bastasse ci hanno lasciato pure la spazzatura che c'era nel cestino. Manco le pulizie di casa. Insomma tutto è bene quel che finisce bene e come vedi questo sistema è in grado di aggiornare praticamente qualsiasi pc. Ora non venirmi a dire che non sei riuscito ad aggiornare il tuo 286 perché ovviamente stiamo parlando di pc che abbiano ancora un minimo di dignità e di amor proprio. In realtà sono stanchissimo, non vedo l'ora di andare a dormire ma non lo farò prima di aver fatto i nostri consueti ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti quanti solo ed esclusivamente proprio per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!